Ciao a tutti e ben ritrovati su Sunshine Money, il canale dedicato al mondo dei guadagni online. Prima di iniziare, mi raccomando, volevo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare. Oggi volevo riportarvi un'app presente sia per Android che per iOS, quindi per iPhone, di cui vi ho parlato già un po' di tempo fa. Quest'app ci permette di guadagnare in modo passivo senza fare assolutamente nulla. E vi sto parlando quindi di Electroneum. Allora, vado a rispiegarvela. Cosa fa quest'app? Quest'app, una volta installata, minerà da sola in background senza fare più nulla questi Electroneum. Andrà a fare del cloud mining. Ricordo che il cloud mining non va assolutamente ad intaccare, quindi ad incidere sulle prestazioni del nostro dispositivo. Electroneum è una criptovaluta, quindi ha un suo valore. È listata su CoinMarketCap. Eccola qui. Al momento questo è il suo valore. In passato, andando a vedere il grafico, ha raggiunto anche valori interessanti, ben più alti. Ecco qui, ad esempio, l'8 gennaio del 2018 ha sfiorato quasi 0.2 centesimi di dollaro. Ok, in questo momento questo è il suo valore. Quindi, dicevo, quest'app, una volta scaricata e installata sul proprio dispositivo, va a minare da sola, senza fare più nulla, quindi in background, quindi genererà un guadagno passivo, va a minare questi Electroneum. Quindi, arrivati alla soglia di 100 Electroneum, in automatico l'app li sposterà nel portafoglio. Ecco qui, come potete vedere, in questo momento ho 300 Electroneum guadagnati senza fare assolutamente nulla, se non installare l'app sul mio smartphone e lasciare che vada. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scaricare dal link sottostante l'app, ok, installarla sul nostro dispositivo, che sia Android, che sia iOS, ok, quindi iPhone. Una volta installata, la cosa che dobbiamo andare a fare è quella di iscriverci, l'app ci rimanderà direttamente sul suo sito, dovremo inserire tutti i nostri dati, seguire passo passo l'iscrizione, una volta che abbiamo fatto questa iscrizione, ci sarà anche chiesto di andarci a creare un nostro pin per accedere ogni volta all'app. Fatto tutto ciò, potremo iniziare a guadagnare, ok, potremo iniziare a fare questo Cloud Mining. La cosa che vi consiglio, innanzitutto, è di andare in basso a destra nella voce Altro, poi andare in General Altri e TN, e andare nella voce Inserisci codice, e qui andare a inserire il mio codice bonus che vi lascerò in descrizione. Una volta fatto tutto quanto, andiamo nella voce Miner, ok, e l'unico onere che questa app ci chiede è di tornarci di tanto in tanto, e andare a premere qui, ok, dove vedete la voce Estendi. Quindi, in questo modo, andremo di volta in volta, come dire, ad estendere questo Mining. No, dobbiamo fare altro. In automatico, l'app in Cloud Mining, quindi, ripeto, non andrà assolutamente ad incidere sul risorso del nostro dispositivo, in Cloud Mining minerà questi elettroneumo. Tutto qui, andremo a guadagnare in modo passivo, senza fare altro. Una volta accumulati nel portafoglio i nostri elettroneum, ovviamente possiamo andarli a ritirare, quindi possiamo mandarli su un exchange che prevede, che opera con elettroneum, e possiamo andarli a cercare su CoinMarketCap, infatti andando nella voce Market, qui ci vengono fuori tutti gli exchange che operano con elettroneum, come potete vedere. Una volta che li mandiamo su uno di questi exchange, tra l'altro io conosco CoinBene, ad esempio, una volta che li mandiamo su uno di questi exchange, possiamo andarli a trasformare, ad esempio, in Bitcoin o in Ethereum. Perfetto, non dobbiamo fare altro. Ovviamente, una volta fatto tutto ciò, possiamo anche convertirli in soldi reali, qualora volessimo, oppure possiamo conservarli, detenerli nell'app, aspettando che aumentino di valore nel tempo. Ragazzi, non costa nulla, tutto assolutamente gratuito, non dobbiamo fare assolutamente nulla, se non installare l'app nel nostro smartphone e lasciare che lavori in automatico, e quindi andare a goderci semplicemente i nostri guadagni. L'unico onere che ci è chiesto è quello di ogni tanto entrare nell'app e andare ad estendere il cloud mining. Tutto qui, è tutta qui questa app, secondo me è un modo, come dire, carino di andare a guadagnare il modo passivo. Questo è quanto, ragazzi. Quindi io, in chiusura, vi ringrazio per la visualizzazione. Mi raccomando, vi rinvito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare, like ai video che vi piacciono e vi ricordo che se volete sostenermi in modo assolutamente disinteressato, potete farlo, io ve ne sarò grato, attraverso tutti i portafogli che trovate in descrizione, oppure in futuro attraverso il sistema Brave. Io vi ho detto tante volte che Brave è il browser legato alla CryptoBat. Ha implementato un sistema pubblicitario gratuito che ci darà diritto a questi BAT, però questo sistema pubblicitario per ora in Italia non è ancora attivo, quindi nel caso andremo ad aggiornarci in seguito. Ovviamente i miei contenuti rimarranno gratuiti, quindi io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti, ciao e al prossimo appuntamento.